Festeggia il nuovo anno con il cenone di San Silvestro, firmato del sito Hotel Le Due Torri, 0825 67 00 01. Il corso è un incontro pomeridiano settimanale, sostanzialmente i corsisti parteciperanno a una prima parte teorica, per cui ci sarà un approccio teorico alle varie tematiche che toccheremo, e poi saranno ospitati nei laboratori dove si prepareranno delle derrate rispetto ai temi toccati, e poi alla fine del corso ci sarà una degustazione delle cose realizzate. Ecco, saranno delle lezioni a tema, dallo street food, la rosticceria, a finire la cucina tradizionale rivisitata, proprio per accontentare tutti e per far conoscere la cucina a 360 gradi. C'è anche un corso sull'approccio al bar, sostanzialmente, quindi daremo anche un po' delle indicazioni, per cui insomma c'è anche spazio per chi sceglierà questa tipologia di corso. Corsi che sono dedicati a persone che hanno voglia di imparare a cucinare? Sì, che hanno curiosità rispetto alla cucina, rispetto al bar, insomma, quindi è un approccio sostanzialmente, quindi diciamo molto base come corso, ma sostanzialmente sì, insomma apriamo la scuola al territorio, e quindi diciamo facciamo in modo che ci conoscano dall'interno, non solo dall'esterno. Le iscrizioni come possono essere fatte? Online, cioè bisogna prenotarsi al corso online e poi venire a scuola e saldare, insomma, rispetto a un versamento che bisogna realizzare per queste cinque lezioni che faremo.